Nuova vita per piazza Andrea Costa di Fano è stato illustrato questa mattina dal sindaco Massimo Seri e dall'assessore Tonelli il progetto per la riqualificazione della piazza. Un ripensamento della zona che prevede tra le tante modifiche una nuova pavimentazione in arenaria eliminando così l'asfalto ed uno spazio verde centrale con tanto di panchine. Gli alberi verranno mantenuti nei pressi degli esercizi commerciali per garantire zone d'ombra, mentre saranno rimossi quelli che sorgevano nei paraggi della pescheria per darle risalto. Saranno poi eliminati i dislivelli per favorire l'ingresso ai diversamente abili alla parete in cui sono presenti gli esercizi commerciali, portando tutto sulla stessa superficie del pavimento ed eliminando così il marciapiede. Sarà installato anche un nuovo sistema di illuminazione a led che andrà a illuminare sia l'arredo urbano che i palazzi, un modo per ridare dignità e lustro alla piazza, ha commentato l'assessore ai lavori pubblici Fabio Latonelli. Abbiamo approvato il progetto preliminare, quindi il primo stadio per la riqualificazione di questa piazza, un progetto meraviglioso che andrà a valorizzare tutta quell'area, tutta quella zona. Gli indirizzi sono stati principalmente quello di dare una funzione diversa da quella di parcheggio ovviamente. Sposteremo questi parcheggi che in questo momento sono utilizzati diciamo dal pomeriggio e la sera perché come sappiamo la mattina c'è il mercato. Stiamo lavorando insieme ad altri uffici tecnici del comune per individuare delle aree esterne al centro storico dove creare questi contenitori. Per esempio stiamo facendo via risorgimento che riqualificandolo soprattutto per la sera potrebbe essere una buona alternativa per il centro storico. Troveremo anche delle aree ancora più esterne al centro storico per mettere anche in atto questo cambio di cultura che vogliamo fare sulla mobilità sostenibile. Quindi parcheggi scambiatori e arrivare al centro storico con altri mezzi alternativi all'automobile. È un processo lungo, infatti i tempi di realizzazione di Piazza Andrea Costa non saranno di sicuro nel 2021. Quali saranno i costi? Il quadro economico dei lavori di questa riqualificazione è 1.100.000 euro. Poi comprendendo l'IVA e anche altri incarichi che servono per realizzare arriviamo a 1.400.000 euro. La nuova piazza che si viene a delineare nasce e ha le sue premesse dagli edifici che la circondano. Sono due edifici principali che è la pescheria e il fabbricato di fianco limitrofo. Siccome hanno due passi diversi nel punto di intersezione nella zona antistante alla pescheria si viene a delineare il cuore della piazza. Che altro non è che l'impronta di dove un tempo sorgeva la chiesa di San Daniele. Oltre all'aspetto architettonico e storico ha continuato Tenenti e si è guardato anche all'aspetto funzionale. Il mercato cittadino che ogni mattina si svolge nella piazza non sarà assolutamente eliminato o spostato ma solo leggermente rimodulato mantenendo così lo stesso numero di bancarelle. Un progetto ha poi aggiunto l'architetto Pamela Lisotta che potrà dare nuove possibilità e nuovi sfoghi sia commerciali che di utilizzo della piazza stessa. La pescheria che oggi è un po' un oggetto buttato lì nel mezzo diventerà parte integrante di questa piazza. Quindi pensiamo magari anche di coinvolgere poi gli esercenti per degli aperitivi la sera. Quindi coinvolgerli anche loro in un stile di vita diverso della piazza. E la cosa molto importante è che sì è vero si eliminano i parcheggi ma si porta gente. Quindi è vero che tolgo il parcheggio ma di fatto porto gente a partecipare a una vita nel centro storico che oggi non c'è.